Ragazzi, solo per informarvi, alle 12 esce una nuova puntata di Muschio Selvaggio, puntata epica. Confronto tra Mario Adinolfi e Katie Latorre, alle 12 su YouTube. Vai, sto parlando. ...della Iaia, non è andata a scuola oggi, guardate Chiara Ferragni invece che porta, fa school drop-off con Leo. Questa è la casetta vecchia, tutta impacchettata. L'ordine che ha Chiara Ferragni nel fare i pacchi non li avrà fatti lei sicuramente, ma fossimo noi con un trasloco ci sarebbe tutto l'over the place. Leo Strum, questa è la cameretta di Leo, guardate che bella, che è proprio blu e bianca per i bambini, è stupendo, davvero. Andiamo invece in un'altra casa. Questa è quella di Vale Ferragni, è qui con Matteo Napoletano e gli sta anche cucinando, bravissima. Questo è quello che rimane della cena. Matteo Napoletano è in visita dagli States, qui con Pablo, invece questa è Marina Di Guardo, scappo in edito, vi lascio così, ciao.